Ciao a tutti da Vittorio, nell'intervista post partita di Lazio Juventus Sarri ha detto una cosa che a me ha fatto molto paura in riferimento alla partita di Europa League e ne voglio approfondire un po' il discorso in questo video. Ciao a tutti da Vittorio, mi raccomando se sei un tifoso della Lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra capitale. Quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella a modo tale che riuscirò a notificare ogni volta che caricherò un nuovo video. Maurizio Sarri nel post Lazio Juventus a canale ufficiale della Lazio ha detto una cosa che a me ha fatto preoccupare non poco. In particolare Sarri ha detto non lo so più se la gara contro il locomotive sia da vincere a tutti i costi, così non si riesce a giocare con questi orari e questi calendari. È una situazione, quella di Mosca, che per la nostra rosa rimane difficile. Ecco, questa è una frase che mi preoccupa abbastanza. La Lazio se vuole andare avanti in Europa League deve cercare di vincere le prossime due partite. Contro Locomodi, fuori casa e poi in casa contro Grata Sai. Così la Lazio potrebbe chiudere al primo posto, evitare di andare al playoff, come volete chiamarlo, contro una che scende dalla Champions League e continuare il cammino in Europa. Da un eventuale pareggio in Russia complicherebbe decisamente il percorso della Lazio. Questa frase di Sarri non so se è una critica verso la rosa della Lazio o verso il calendario o forse verso tutte e due. Mi sembra l'opzione più plausibile. È evidente, Sarri non è mai stato, se concludiamo il periodo del Chelsea, un allenatore che ha amato fare turnover, no? Guardate Rado. Rado non ha praticamente mai giocato. Ci sono tanti giocatori, Rado e Scalante, che stanno giocando pochissimo o niente. Però, se vuoi affrontare due impegni, due competizioni così importanti e arrivare in condizioni alla fine del campionato, secondo me un po' di turnover, anzi, turnover importante lo devi fare. E la Lazio non lo sta facendo tanto. Contro il Lokomotiv è una partita importante. Si gioca in Russia, trasferta lunga, faticosa. E poi domenica c'è il Napoli, un'altra partita per la Lazio fondamentale. Questi otto giorni, ovvero da Lazio-Juventus a Napoli-Lazio, sono, non dico fondamentali perché la stagione è ancora lunga, ma possono essere importantissimi. Perché, se vinci con Lokomotiv, vai avanti in Europa League. Se perdi, rischi di già perdere il primo obiettivo. Sarri non si è nascosto. Ha detto che questa è una partita difficilissima, soprattutto per il calendario, per gli orari e per i tanti impegni della squadra. Però è anche vero che, secondo me, la Rosa, l'abbiamo già detto, credo di aver già fatto video a riguardo, ha delle lacune. Ma, come dico da un po', mica siamo al Paris Saint Germain, siamo alla Lazio. No. Ieri un mio amico mi diceva, beh, ma se dici di soffrire così tanto, non ti fare Lazio, ti fa Bayern Monaco. Beh, ma no. È troppo facile. Io ti favo Lazio, anche perché devo dirvi che ti fare Bayern Monaco deve essere di una noia incredibile. Ovvio, la Lazio non sarà mai Bayern Monaco, la Rosa della Lazio non sarà mai competitiva o perfetta come quella del Bayern Monaco. Ci sono delle lacune, lo sappiamo benissimo. Esterni alti, se Zaccagni si fa male siamo in difficoltà. Tersini ne abbiamo tre, ne dovrebbero essere quattro. L'unico reparto perfetto, secondo me, completo è il centrocampo. Anche senza immobile, vediamo che siamo un po' in difficoltà. Ecco, Lokomotiv è una partita importante, però secondo me bisogna andare là con l'idea di provare a vincere con un turnover importante. Del resto, questi calciatori devono dimostrare di essere da Lazio e quindi si va a Mosca con l'idea di vincere, però facendo un turnover. Io per esempio, Murici lo farei partire titolare contro Lokomotiv, non me ne frega niente dei fischi, eccetera. Murici deve giocare, uno, per poter dimostrare di essere da Lazio e due, per far riposare probabilmente Felipe Anderson o Pedro. Ciro Immobile quasi sicuramente sarà out, là davanti Sarri deve ruotare qualcosa. E anche in difesa bisogna rivedere qualcosa. Andiamo di nuovo con Acerbi, Luis Felipe a Mosca? Io non lo so. È vero che, e lo so che me lo scrivete nei commenti, non abbiamo tante alternative là. Perché la prima riserva è Patrick e sappiamo che Patrick è Patrick. A centrocampo invece abbiamo tante opzioni. Leiva non ha giocato contro Juventus, dovrebbe partire titolare contro Lokomotiv. Basic potrebbe sostituire uno fra Luis Alberto e Mikko Savic. Volendo possiamo anche mettere Akpapro per cambiare tutto il trio di centrocampo. Però, io dico, capisco le parole di Sarri, proviamo a giocare facendo un turnover importante. Facendo riposare qualche titolare, perché poi contro il Napoli la Lazio deve provare a vincere. Deve provare a vincere e parliamo di una delle squadre più forti della Serie A. Adesso, perso contro l'Inter, è vero. Ma Napoli non sono andato in avanti, vantaggio. Ma nei minuti finali è andato vicinissimo al pareggio. Poi con l'infortunio di Ossimen ha perso tanto, però è una bella squadra. Ecco, a mio avviso, l'unica cosa che posso dire, sì, la rosa della Lazio non è completa. Ha delle lacune, ma lo sapevamo. Però, se proviamo a fare un po' più di turnover, soprattutto dare una chance a Murici, che anche contro la Juve non è partito titolare. fa riposare Felipe Anderson. Non dico che sicuramente vinciamo contro Lokomotiv, perché te la devi comunque giocare. Però, secondo me, probabilmente con Lokomotiv puoi vincere anche facendo un po' di turnover e facendo riposare quei giocatori chiave che invece ti servono per il proseguio della stagione. Diamo una chance a Murici, l'ho detto. Magari c'è anche Scalante, che non ha giocato ancora un minuto. Proviamolo, diamogli un po' di soddisfazione e vediamo anche a che punto sta. Stefan Radu non può giocare giovedì contro Lokomotiv. Io credo che così scarso non sia. Ecco, le parole di Sarri mi preoccupano perché quello che penso è che Sarri non si fida di alcuni elementi della rosa. Ho citato Radu, ho citato Scalante, ho citato Murici. Sono tre giocatori che lo scorso anno, soprattutto Radu e Scalante, hanno giocato tanto. Radu, praticamente sempre titolare. Scalante ha giocato più di mille minuti. Quest'anno non hanno mai visto il campo. Ecco, può essere che Sarri di questi elementi non si fidi. Però in un campionato lungo con l'Europa League, così, a mio avviso, bisogna fare un turnover importante. E anche se contro Lokomotiv è una partita che la Lazio sulla carta dovrebbe vincere, proviamo a vincerla facendo turnover. Senza dare giustificazioni. Eh, abbiamo dovuto ruotare e quindi non ce la facciamo. No, facendo turnover ma col messaggio chiaro ai giocatori, questa è la vostra chance. Noi qui dobbiamo vincere. Io mi fido che voi potete portare a casa l'obiettivo. A mio avviso Sarri deve provare così, perché abbiamo visto Felipe Anderson è cotto, Ciro Immobile è fuori. Non si arriva a maggio-giugno se non si incrementa il turnover. O se no, si esce dall'Europa League, che è una cosa che io non voglio pensare al momento. O se no, si è una cosa che io non voglio pensare al momento.